Domenica, la prima delle quattro previste a marzo, con il 23 premio finito, tutto è pronto, partito. Machiseye dall'esterno, Gibraltar e Playa, non è scappato bene ma recupera, bisognosa andatura come suggeriva il suo team, all'esterno c'è Thunder, poi Pink Valley in coda, da Fresh Pepper, Machiseye, Gibraltar e Playa, una accanto all'altra, consistenza del terreno, lo vediamo sotto i zoccoli dei cavalli davanti alle tribune, Thunder è terzo, quarte Pink Valley in coda a lunghezze, Fresh Pepper, 2002 in pista grande, quindi tra poco si andrà in diagonale sulla pista nuova, con Machiseye e Gibraltar e Playa, due scandiscono il ritmo, ora su Thunder, Pink Valley ed in coda a Fresh Pepper. La pista come vedete ora inizia a divergere, si entra nella parte nuova, dentro il bosco, Machiseye e Gibraltar precedono Thunder con all'interno Pink Valley, quinta tiro e Fresh Pepper, non cambiano le posizioni, si era preventivato questo schema e questo schema è rimasto, Machiseye e Gibraltar precedono Pink Valley e Thunder, poi Fresh Pepper, quando siamo in curva, all'inizio della curva, che però è molto dolce, come linea, Machiseye va verso l'intersezione con di fuori Gibraltar, dietro ai due Pink Valley con di fuori Thunder in coda a tiro, Fresh Pepper dal primo all'ultimo quattro lunghezze con Gibraltar che preme su Machiseye, i due allungano da Pink Valley che all'esterno Thunder, poi Fresh Pepper che aspetta, Machiseye alla frusta per spingere Gibraltar montato, dietro ai due in corda Murato e Pink Valley con all'esterno Thunder, Gibraltar che passa su Machiseye all'esterno Thunder, poi Pink che in un momento non cambia azione, all'alto di tutti, Fresh Pepper scappa, Gibraltar a Playa in vantaggio, inseguito da Thunder e da Fresh Pepper, poi Machiseye e Pink Valley con Fresh Pepper che prova ad andare a prendere Gibraltar a Playa tra i due Thunder, a 200 dal paro, Gibraltar attaccato all'esterno di tutti da Fresh Pepper tra i due Thunder, tre all'ottare, Thunder contro Fresh Pepper, Fresh Pepper batte Thunder e Gibraltar a Playa. per Riccardo Melichetti, il ragazzo dell'Olmo, Carlo Lamberti, Fresh Pepper sulla femmina, rosso-blu, battono alla fine Thunder che se la gioca fino in fondo ma è battuto, 3-2, terzo, Gibraltar a Playa, 3-2-4, il probabile ordine d'arrivo dalla postazione centrale e da Pisa San Rossore per il momento è tutto.